A me viene da pensare che per quanti ospiti potesse avere, piuttosto che della sua maestosità, venivano un po' presi da queste scene dei mosaici che indubbiamente avrebbero dovuto capire l'attenzione di molte persone. Ad esempio, vedere queste scene di caccia, magari la gente non sapeva come venivano catturate le belve, che ne so. E in questo modo potevano anche studiare o capire. Grazie per la visione!